Grazie a voi un bel cadò, come chiamano i francesi, un bellissimo regalo, perché Iosuke vuole proporre una canzone della cultura, della tradizione napoletana, con voi naturalmente. E allora signori, per la prima volta un giapponese doc, con origine controllata, canta insieme a voi Osultato e nomorato! Passo via! Passo via! Passo via! Passo via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.